Al via Lanciano Fiera la 56esima edizione della Fiera Nazionale dell'Agricoltura, la cerimonia ufficiale di apertura è stata preceduta da un importante convegno relativo agli obiettivi strategici di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro in agricoltura del piano regionale di prevenzione 2014-2018, un appuntamento che così conferma la volontà di Lanciano Fiera di arricchire l'esposizione con convegni, dibattiti e aggiornamenti per tutti gli operatori del settore. La Fiera Nazionale dell'Agricoltura, anche quest'anno ricca di novità e di espositori provenienti da tutta Italia, ribadisce la vocazione della terra d'Abruzzo e la grande opportunità per i giovani di investire proprio sull'agricoltura, un'agricoltura moderna al passo coi tempi, l'assessore regionale Dino Pepe. Percentuali di disoccupazione giovanile in Abruzzo ancora molto alte, un motivo in più per avvicinarsi all'agricoltura e sfruttare le grandi opportunità che arrivano anche dall'Europa. Abbiamo messo a disposizione già 21 milioni di euro per i giovani in agricoltura per fare in modo che noi possiamo rinnovare la classe imprenditoriale agricola e poi abbiamo appena deliberato in giunta il regolamento della Banca della Terra per mettere a disposizione i tanti terreni disponibili soprattutto a favore dei giovani. 300 i marchi rappresentati, oltre 200 gli espositori in tre padiglioni e nell'immensa area sterna. Franco Ferrante, presidente di Lanciano Fiera. Il settore primario dell'agricoltura è importante, cerchiamo di dare il massimo anche nei servizi, sia per la formazione, l'informazione. La Fiera ha inaugurato i propri lavori con un incontro, con un convegno sulla sicurezza appunto del mondo agricolo, del mondo del settore agricolo. E quindi questo è già di buon auspicio. Continueranno i convegni soprattutto riguardanti tecnici che ci parleranno dell'agricoltura in modo presente e soprattutto diamo una mano, diciamo così, a far ripartire la regione e tutto il nostro territorio dopo le note vicende che veramente ci hanno colpito in tutti i sensi. Fiera dell'agricoltura, spazio vitale dunque per l'economia della regione, ma Lanciano Fiera ha bisogno di investimenti per crescere ancora, nonostante un'esperienza che dura ormai da 56 anni. L'assessore regionale Silvio Paolucci. Con le risorse del bilancio siamo intervenuti sulla Fiera e su quello che sarà un'opera molto importante con la realizzazione di un padiglione significativo che incrementerà anche il business stesso, ovvero la possibilità di allargare le attività per quanto riguarda il polo fieristico qui a Lanciano con 250 mila euro, mi sembra una cosa importante, poi continuiamo a dare un sostegno importante con i versamenti e i contribuzioni che come soci la regione Abruzzo ogni anno registra nel rapporto con la Fiera, ma poi il settore primario è una delle gambe più importanti, se non la gambe più importante di questa regione.